Grazie a tutti di essere qui in questa seconda parte di questa giornata di lunedì, quindi chiaramente un doppio grazie per aver sottratto tempo alle vostre quotidianità. Oggi è un giorno bello, è un giorno particolare, sarebbe stato il centesimo anno dalla nascita di papà e quindi abbiamo, come fatto anche nell'altra occasione di Aveva le mani d'oro, fatta quest'anno per ricordarlo, preso a pretesto questo giorno, questa possibile celebrazione per ragionare su due aspetti. Uno che abbiamo in qualche modo fatto nel luogo dove papà è nato, a pochi chilometri da qui, a Palinudo, una frazione di Bianchi, dove idealmente la consegna di un arazzo tessuto qui sulla Madonna del Carmelo, a cui era devoto, è stato un momento per riallacciare momenti, come dire, di collettività, di comunità. Il momento storico che viviamo è un momento buio, è un momento veramente pesante e forse dalla comunità potranno tornare ad arrivare dei segnali. Lui teneva moltissimo a questa cosa e allora questo pomeriggio abbiamo rifatto questo gesto di ritornare in questo posto, di ribadire che i luoghi è importante. Questa cosa la recuperiamo anche stasera perché riproiettiamo un video fatto da Francesco Pileggi che ci ha voluto proprio regalare questa sorta di ritorno al futuro perché in realtà la visionarietà di questo video, ancora dopo vent'anni, contiene quella sorta di di avanguardia che vent'anni fa un gruppo di ragazzetti qui dentro hanno cominciato a praticare e anche lì è stato un lavoro tra persone, tra persone che guardavano nella stessa direzione, che forse troppo in anticipo con i tempi hanno pensato che l'arte contemporanea, la cultura della contemporaneità in generale potesse prendere un pezzo di montagna calabrese e potesse collegarla ad altri mondi, ad altri luoghi, soprattutto al nord Europa. E quindi questo video, che è tutto un lavoro di cui adesso Francesco ci parlerà, alla fine fa vedere mio padre che balla e questo diciamo è il miglior modo per celebrare lui che adesso non c'è fisicamente ma che come dire ci lascia una sorta di grande messaggio di vitalità, di voglia, allora aveva più di 80 anni e lui qui vent'anni fa era come una sorta di ragazzino tra le sue macchine, i suoi ingranaggi, a lui interessava poco che questo posto non fosse più produttivo dal punto di vista economico, però nella sua testa lo è sempre stato, no? E questa è stata quella sorta di custodia del fuoco che poi ha permesso a noi, anche con grande fatica, di riaccenderlo questo fuoco. Ancora è un fuoco molto flebile, cioè dopo vent'anni uno dice caspita ma quanto ci metterà questo fuoco a tornare ad accendersi? Però forse è il nostro ruolo di custodi, quindi lo spirito con cui anche questa sera qui dentro celebriamo la vitalità, la speranza, la forza, la forza di volontà soprattutto, come dire il miglior monito e anche il miglior modo per ricordare papà che non stava fermo mai. Grazie. Intanto grazie a tutti di essere qui per Peppino, io sono qui per affetto, vent'anni fa ero qui anche per affetto perché soldi non ce n'erano, facemmo queste cose e niente, vent'anni fa scoprì questo luogo e questo signore insieme ad Emilio, poi Emilio ci lasciò una giornata e io restai qui un pomeriggio a riprendere queste macchine che questo signore metteva in moto perché io potessi riprenderle. E poi a un certo punto questo signore ha fatto di nervi, di nervi e di fatica, gli chiesi ma questi rumori mi sembrano suoni, mi sembrano quasi che una musica di tarantella, dico ma voi sapete ballare? Perché questo... Ma è certo che so ballare. Vi va di ballare e io vi riprendo? Perché no? E si mise a ballare. E insomma, è stato un momento magico, vedrete questo video che è un po' la mia visione, chiaro, no? Delle macchine. È un video legato anche a, in qualche modo, alla Germania perché poi ce ne fu un altro, Tanz in Bed, queste Tanz in Trastanz, è un gioco che forse prevedeva la mia partita per la Germania. Poi ce ne fu un altro, anche questo molto lavorato, è Tanz in Berlin, ecco, e niente, insomma, ok, penso che forse allora eravamo davvero un po' avanti, ma va bene, qua c'è uno, c'è un signore, c'è Tonino con cui un altro dei protagonisti di quel momento, va bene, penso che possiamo vedere il video perché preferisco che parli il video piuttosto...